Salve a web spettatori di NanoTV, un aperitivo con Marcello Gervasio, direttore dell'Eliseo Clubbing, sabato 26 marzo 2011, ancora un evento importante all'Eliseo di Frattamaggiore con Umberto Smaila e la sua band, la solita formula, quella dell'Eliseo, cena spettacolo. Direttore, allora? Sì, potremmo dire ritorna a Umberto Smaila perché già è stato in passato l'Eliseo di Frattamaggiore, è stato un grande successo, non potevamo ripetere questo artista, non ripetere questo artista perché è stato uno di quelli che veramente ha risposto un grande consenso popolare da parte dell'area di Napoli Nord, che non sono. La formula è sempre la stessa, cena spettacolo, prima deliziamo i palati dei nostri ospiti con quella che è la cucina del nostro chef Raffaele Satriano, che per l'occasione, visto che siamo in primavera, parliamo del 26 marzo, quindi la primavera ormai è avviata, allora non potevamo non preparare un menù tipicamente primaverile. Dopodiché il grande Umbertone, l'Ubertone nazionale che ci farà cantare tutti i grandi successi nazionali e internazionali come solo lui sa fare perché oltre ad avere una gran voce è anche un bravo intrattenitore e quindi riesce veramente a smuovere tutti, anche quelli più pigri. Uno degli ultimi eventi, no? Perché andare verso la susura della stagione invernale. Hai colto proprio il punto più importante perché diciamo che poi dopo la stagione primaverile ci spostiamo presso la struttura estiva, continuando con la solda formula, c'è una spettacola e discoteca, questo al tsunami di Cineb che si trova a Bancacolo. Intanto ci guardiamo gli ultimi eventi all'Eliseo, quindi da non perdere assolutamente, questo di sabato il 26 marzo con Umberto Smaela e tutta la sua band che ci farà cantare e ballare tutti i veri successi italiani e quelli internazionali, perciò vi aspetto tutti. Dacci i recapiti dell'Eliseo. Sì, 0818355095, lo ripeto a scanso di equivoci, 0818355095 perché ovviamente la cena va prenotata. Oppure il sito, se vogliono avere anche maggiori descrizioni sulla struttura per chi non la conoscesse, www.eliseoclub.it Benissimo l'appuntamento è con Umberto Smaela e con sabato il 26 marzo 2011 e con il nostro portale napolinord.it. Ti ringraziamo Marcello, ciao, grazie.